Musica Eccoci qua, il Cucinando con MD con Chef Ferio che ci preparerà anche oggi una deliziosa ricetta Ma quale, quale, quale? Chiediamoglielo subito, Chef, buongiorno, come stai? Ma che cosa ci prepara di buono quest'oggi? Una bellissima ricetta oggi, spaghetti alle vongole, ma gli aggiungiamo i friarielli Ti piacciono i friarielli? Mi piacciono separatamente ma in aggiunta E ti faccio vedere il connubio di questo piatto Come? Allora, due padelle, Mary, una dove andremo ad aprire le nostre vongole Che in realtà già le ho fatte prima, vedi? Infatti Già le ho aperte a sute Sì, sì E l'altra dove andremo a ripassare i nostri friarielli Allora, quindi anche oggi Spiccio d'aglio, spiccio d'aglio Piatto possiamo dire regale, no Chef? Tra l'altro Ma regale, regale perché ci sono le vongole, perché ci stanno i friarielli E poi tra l'altro, questo, cioè separatamente i friarielli e le vongole Sono ingredienti e portate che ingolosiscono molto i nostri A tutti, dai, a chi è che non piacciono? Specialmente ecco Fiarielli e vongole, Mary Il nostro capologo partenopeo, ma in realtà non solo È una pietanza e una portata che piace e unisce davvero i gusti di tutti Però voi avete mai provato l'insieme, ecco L'unione di friarielli e vongole con gli spaghetti Io personalmente sono sincera e lo ammetto, no Ma la Chef Ferri, naturalmente, c'è sempre da imparare Mary, io faccio provare oggi Guarda, una ventagliata di spaghetti Andiamo a calare, saliamo Dieci minuti di cottura, ma noi a nove Dobbiamo ritirare Chef, allora abbiamo due tegami Uno dove andremo a pulire i nostri friarielli Guarda, vi faccio vedere Ma voi che già lo sapete, non avete bisogno Io amerei, preferirei mettere all'interno di questo piatto I cuore, la parte più tenera I cosiddetti, i cimboli I cimboli La parte più tenera, no? Però posso capire, posso immaginare del resto che ne facciamo Quindi usiamo tutta una parte di friarielli Però vedi come ben vedi, io mi sono scartato Sono andato a recuperare tutti i cimoletti I cimoletti Vedi? Cimoletti I cimoletti, i cimoletti Diciamo, quella parte più tenera dei friarielli Mary, facciamo rosolare in padella Ce ne servono pochissimi Perché andranno a completare il nostro piatto Per non invadere troppo il sapore del nostro spaghetti alle vongole Nell'altra padella, peperoncino aglio Andiamo a versare, anzi facciamo così, guarda Il piatto regale, dicevo Il piatto di cottura Ecco qui Procuriamoci il piatto per impiattare In modo da tenerlo già pronto Mary, vedi? Quindi allora stiamo preparando questo piatto regale Spaghetti con le vongole in aggiunta ai friarielli Di cui il chef Erio predilige la parte molto più tenera Gli spaghetti li abbiamo già calati Naturalmente c'è ancora qualche soffresa Abbiamo aperto prima le vongole Il perché Mary? Perché? Perché andremo a sgusciare le nostre vongole Sì Quindi, vedi i friarielli? Già li andiamo a spegnere Intanto il piatto, eccolo qua Grazie Mary, grazie Sempre pronta Basta che parlo e Mary provete subito a farmi stare bene Siamo già pronti quindi con le vongolette Esatto, le vongolette le mettiamo in un piatto Abbiamo conservato il liquido di cottura Quindi delle vongole Io le ho sgusciate Le ho aperte prima a satè Esatto, ma come ti piacciono da presentare le vongole? Le sgusciate o col guscio? Io col guscio Io le sguscio Eh, anche io perché quando mi capito Le sguscio Perché anche a me ogni tanto capita Mi piacciono pronte all'uso Anche perché Però quanto tempo c'è A dirti la verità In cucina è un lavoro che fa mia moglie Mamma mia, che pazienza che ha tua moglie Tanta E anche perché noi che sgusciamo un chilo alla volta Ma bensì tantissimi vongoli Però guarda, una volta calata la pasta Non abbiamo nulla Un'altra da fare Ci puliamo le nostre vongoline Tu nel frattempo Se vuoi dedicare qualcosa Ai nostri amici Sì, allora Diciamo al nostro pubblico Che questo è un piatto Che ritroviamo sicuramente al ristorante Mangiando sul serio E c'è l'abbinamento dei friari Però in realtà Ceferio vi ha proposto questa novità Questa creatività Oggi Entrando nelle vostre casne Però in realtà Non è il solo abbinamento Che tu ripercorre Nella tua cucina Cioè Del ristorante Mangiando sul serio Perché sono tanti gli abbinamenti Che decidi di Di adottare Anche perché La nostra cucina Senza menù alla casa E' ricca di fantasia Ricchissima Quindi la creiamo al momento Esatto Potreste pensare che sono un pazzo Ma sono un pazzo Mi piace Innamorato Della tua cucina Complicarmi la vita Ma soprattutto Non mi piace obbligare le persone A mangiare quello Che a me mi passa Che tu imponi In quel momento Perché in quel momento Tu accogli naturalmente La clientela E vai Insomma Inizi un dialogo Per capire quali sono I principali gusti Con tutti i tavoli presenti Ci perdo Un sacco di tempo E' importante questo aspetto E però Come ti dicevo Perché per l'esperienza sensoriale Quella che poi resta Quando si saluta Chef Ferio Ed è il ricordo Poi di giorni successivi Mi piace rendere felici Le persone E a tavola Ci sono Ci devono essere Solo persone felici Io lo dico sempre Lo predico sempre A tavola Non esistono compromessi Ma solo felicità Quindi Io Lavoro per la felicità Degli altri Questo è il mio lavoro Lo faccio con amore E Che devo mangiare Quella è la mia domanda Di cose voglia Quest'oggi Perché molte volte Si va al ristorante O perché non si ha tempo Per esigenza Quindi non si sa neanche cosa Esatto Uno vuole mangiare Io ci sono lì Propongo Insieme Facciamo gli abbinamenti Fin dove è possibile Logicamente Proposti da voi E vi rendo felici Allora Mary Vedi sono passati Sei minuti Lasciamo ancora Tu nel frattempo Mi procuri un po' di prezzemolo Basilico Un po' di basilico Un po' di prezzemolo Per un piazzo regale Un prezzemolo abbondante Per favore Naturalmente possiamo Anche un po' anticiparci Un po' Per pulire Per riscaldare le vongole Sì Mary Questo è un servizio Che possiamo fare anche Il giorno primo Alla mattina Esatto Le apriamo a sotè Le sgusciamo E le conserviamo Perché richiede un po' di tempo Caliamo la pasta E il gioco è fatto Anche se aprire Due vongole a sotè E sgusciarle Stiamo parlando Di minuti Non di ore Di giornate Di secoli Lo so chef Però dai Già lo so Ma servo anche voi Avete mamma a casa Fate come Mario Chiamate a mamma Dite ai vostri Desideri Mamma desidero Spaghetti alle vongole Con i frarielli E tutto è fatto E tutto è pronto Se poi avete Le mamme impegnate Andiamo al ristorante Mangiando sul serio Di chef ferio Mi ha anticipato Ti voglio bene Ti voglio bene Sei bellissima Allora Mary A questo punto Andiamo a manticare Il nostro Spaghetti alle vongole Classico Quindi in questo caso Lo ritiriamo Un po' prima Ma nessun perché Quindi abbiamo tolto Qualche minuto Prima E andiamo a realizzare La cremina La famosa cremina Come la realizziamo? Dobbiamo voler bere La padella Stare lì Vicino alla padella E accarezzarla Ogni tanto Vedi? In modo che l'amido Fuoriesca E va a legare Il tutto In modo Non avere Uno spaghetto Alle vongole Sciacquariato Come dicono A Bolzano Bergamo Malta Sciacquariato La terminologia Di Bolzano Sì sì Di Bolzano A Bergamo Malta Una cosa del genere E mi è capiato Un sacco di volte No? Avere commenti Critiche Anche perché Quando si era giovani Era un piatto Che io non amavo tanto Lo spaghetto alle vongole Dette la verità Neanche oggi Neanche oggi Non è molto di tuo gradimento Ma per il video Del tipo di pasta Perché a te Non piace la pasta liscia No Preferisci la pasta Neanche lunga Rigata Corta e rigata Questa è una caratteristica Che c'è più di Io sono il contrario Degli altri chef Anche perché io sono un cuoco Allora Mary Spaghetto alle vongole Ha sempre il suo perché Perché? Perché Perché Vedi? Andiamo È un piattale Quindi un piatto regale Questo oggi Fateci sapere Se siete riusciti A replicarlo In casa vostra Naturalmente Sicuramente Mary Anche perché È un piatto veloce Tanti abbinamenti Che possiamo ritrovare Invece Sul menù in carta Mariotta ha detto Poi verbalmente Se ci richiamo Al ristorante Di Chef Ferio Mangiando sul serio Che ricordo Si trovano La due passi Dal vulcano buone Intanto Questa pioggia Di vongolette Questa pioggia Questa È un porto Di vongole E andiamo A posizionare I nostri Cimoletti Di Fiorilli Guarda come sono carini Guarda Sì Anche qualche fogliolino Ci sta bene Vedi Anche qualche fogliolino Croccante Come questa Vedi Che non è stata Di passata per bene In padella Andiamo a completare Il nostro piatto Wow È un piatto Che però Ecco Sortisce sorpresa Molto dinamico Molto dinamico Vedi Una spolverata Di pepe Non è piatto Assolutamente no Al suo mordente Al suo perché È vero E ve ne accorgete Realizzatelo E fateci sapere A quella marcia in più A quella marcia in più Una marcia che ci piace Sicuramente Quella che Chef Ferio Ci regala Tutti i giorni Ma ti hanno mai detto Che sei insuperabile Tutti i giorni Tu Grazie E noi con Chef Ferio Ci ritroviamo Per appunto Tutti i giorni Arriviamo a venerdì 12.50 circa Per assaporare Tutti i giorni Un piatto diverso Un gusto diverso Un gusto tutto esplosivo Grazie Bacini a voi Ciao Chef Ciao Medi Ciao Un bacio a tutti Ciao Ciao Ciao